eccoci tornati abbiamo ancora in collegamento Carla Ardizione ciao Carla grazie ancora di essere con noi dalla redazione di Scuola.net Carla allora la domanda che abbiamo fatto prima al professor Piceci poi me l'abbiamo rivolta a te quindi adesso è il momento abolire o riformare? io sono per riformare come il professore sì credo che gli studenti debbano in qualche modo orientarsi al mondo del lavoro trovare la propria strada e anche mettere in pratica ciò che imparano a scuola ma devono farlo nel modo giusto e che vuol dire giusto? vuol dire sicuro vuol dire guidato da chi ha esperienze ed è adulto vuol dire in maniera farlo in maniera formativa quindi veramente dare un bagaglio di competenze a questi ragazzi quindi un'alternanza che sia più formativa e più dare loro un'idea di quello che dovrebbero fare dopo che potrebbero trovare dopo il diploma o dopo l'università e non un inserimento pur magari nei lavori o nelle professioni per quello c'è tempo sì sì e perché ragazzi sono più per l'abolizione totale senza e lì non c'è più tempo però vogliono abolire subito eh sì io credo che loro vogliano abolire perché quello che è successo comunque quest'anno è stato nel 2022 scusate perché siamo nel 2023 giustamente e quello che è successo nel 2022 credo che li abbia colpiti molto e che comunque la morte di tre studenti durante uno stage è comunque qualcosa che generazionalmente in così poco tempo provoca un rifiuto c'è anche chi comunque giustamente incarna pensa che l'alternanza scuola lavoro corrisponda a un lavoro sfruttato ecco in quel caso ovviamente loro vogliono assolutamente riprendere le distanze ma se l'alternanza scuola lavoro non fosse un lavoro sottopagato ma fosse un'opportunità di formazione bella e interessante probabilmente darebbero a questa esperienza un'opportunità abbiamo sentito parlare anche nei giorni scorsi di una nuova riforma proposta dal ministro Calderoli quindi andiamo ad ascoltare le parole di Damato e di Maiorino in merito a questo e poi le commentiamo insieme l'economia regionale sa che Calderoli vuole presentare un progetto che cosa ne pensa? assolutamente contrario, quello è un progetto che spacca il paese divide l'Italia, indebolisce il Lazio perché è basato su due presupposti che noi non possiamo accettare il primo è quello della spesa storica significa che chi è indietro rimane indietro il secondo è quello della fiscalità regionale che significa sottrarre risorse a scuola e sanità e indebolire la coesione sociale del paese io sono contrario, fortemente contrario cosa cambierebbe della riforma di Calderoli? ma è più facile dire cosa lascerei in piedi nel senso che quella riforma a me non piace credo che punti a dividere l'Italia a regionalizzare la scuola la vivo come l'attacco alla scuola pubblica invece c'è un tema che anche la sinistra per troppo tempo ha dimenticato che è quello di far sì che le risorse arrivino direttamente alle città ai comuni, alle città metropolitane quindi io dico autonomia sì ma non così sono convinto che l'autonomia di Calderoli non andrà in porto per i conflitti nella destra dico a tutti allora riazzeriamo il confronto e cerchiamo di capire se invece ci può essere una base comune tra regioni, comuni, governo su cui ripartire Ecco Carla, come possiamo commentare le parole di due esponenti politici? Ecco io essendo una specialista di scuola posso rispondere riguardo ecco la mia competenza sicuramente ecco sicuramente la scuola deve essere insomma una di quelle istituzioni che garantisca il diritto allo studio di tutti dal meno abbiente al più avvantaggiato e che riesca a quindi a raggiungere insomma ogni classe sociale e ogni tipo di studente sicuramente l'autonomia regionale probabilmente porterebbe a alcune regioni ad avere magari un vantaggio ma ad altre probabilmente potrebbero essere lasciate un po' indietro quindi ecco nell'ottica che secondo me la scuola dovrebbe essere un patrimonio nazionale ecco sicuramente bisogna pensare soprattutto a questo bisogna pensare a come renderla veramente produttiva per gli studenti e possa raggiungere veramente tutti sempre di più perché purtroppo tuttora non riusciamo a contrastare fenomeni come l'abbandono scolastico soprattutto nelle zone insomma più difficili e questo non può che andare contro quello che è il nostro futuro perché se la scuola funziona funziona anche un po' tutto il nostro apparato produttivo avremo generazioni di professionisti, di persone che possono arricchire il nostro paese quindi io credo che bisogna andare verso questa direzione per il bene dei ragazzi e anche del nostro paese insomma per un futuro mondo del lavoro sicuramente migliore di quello che è adesso Carlo Ardizione grazie per essere insieme a noi grazie mille un saluto a tutta la redazione di scuola.net ovviamente ciao grazie grazie a lei un buon proseguimento di giornata, di serata oramai visto che sono le 16.11 allora prosegue il nostro pomeriggio noi ci stiamo adesso cambieremo argomento ci stiamo per collegare con il professor Massimo Ciccozzi epidemiologo del campus biomedico di Roma e con il professor Ciccozzi analizzeremo la questione legata al covid un covid che per quanto riguarda i dati che riguardano appunto il nostro paese è un covid che è totalmente sotto controllo ed è notizia Francesco di nove ore fa che la Corea del Nord dichiara il lockdown a Pyongyang per una malattia respiratoria non ancora specificata dobbiamo preoccuparci? e questa è una domanda che faremo al professor Ciccozzi anche se oramai abbiamo acquisito delle conoscenze Francesca e cari telespettatori in questi dranghi di pandemia molto importanti non dico noi in quanto semplici cittadini anche noi per quanto riguarda le norme le norme ad esempio di usare la mascherina quando usarla come magari starnutire all'interno del braccio sono delle norme di vita civile quotidiana esatto esatto ma non vorrei nemmeno pensarci ad arrivare un'altra volta ma non vorremmo nessuno di noi e quindi a noi adesso parleremo con il professor Ciccozzi è chiaro che però io vorrei puntare il focus su una cosa fondamentale ricordi che quando è arrivato l'allarme dalla Cina si sono mossi tutti per il Capodanno cinese il Capodanno lunare si sono mossi milioni, milioni, milioni di cittadini cinesi tra l'altro è stato fatto nei giorni scorsi il Capodanno cinese a Milano grandi festeggiamenti proprio nel weekend e quindi il governo Meloni ha prontamente insieme al ministro Schillaci istituito dei presidi, dei tamponi per chi arrivava dalla Cina attraverso appunto i voli provenienti dal continente asiatico attenzione però perché questa misura verrà abolita e allora io mi chiedo se ha funzionato così bene abbiamo il uso e il rischio di nuove varianti perché non proseguire almeno fino a febbraio oggi è il 25 di gennaio facciamo altri 10 giorni facciamo altri 15 giorni parliamo di due settimane anche perché la situazione di emergenza negli altri paesi ad esempio la Cina o abbiamo visto la Corea del Sud purtroppo è una situazione di emergenza che continua nel tempo quindi siamo anche noi in un certo senso come dire esposti a questa emergenza a questa minaccia e noi lo chiediamo al professore Massimo Cicozzi buon pomeriggio professore buon pomeriggio a voi professore perché perché non continuare per altri 15 giorni questa misura che ha funzionato perfettamente sì io almeno fino al 10 di febbraio la utilizzerei visto che insomma l'abbiamo messa su per primi in Europa poi ci hanno tutti seguito e questo è secondo me fondamentale perché ma perché dalla Cina non ritorneranno tutti lo stesso giorno è ovvio no avranno scaglionate il rientro nei vari paesi europei quindi anche in Italia per tutti quelli che lavorano qua hanno attività in Italia e per il Capodanno sono tornati nel loro paese hanno visto i loro parenti che magari non vedevano da anni e quindi magari torneranno il 2 il 3 il 4 di febbraio perché no quindi diciamo che per star larghi almeno quei 7 10 giorni in più non fanno male anche perché non è nulla fare un tampone veramente non è un fastidio quindi siamo più tranquilli di tutti quanti nuove varianti per ora non ci sono forse il fatto dell'abolizione è dovuta a Omicron nel senso in Cina per ora c'è Omicron però abbiamo anche altre sottovarianti no vedete che girano parte Kraken ma insomma Olu questa nuova è un problema molto più inglese nel 25% dei casi è lì però insomma può anche venire da noi stiamo parlando comunque di varianti della famiglia Omicron con sintomi molto 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 blandi per cui io lo prorogherei ragionerei assolutamente professore notizia di nove ore fa che la Corea del Nord dichiara il lockdown per una una malattia respiratoria non ancora ben specificata dobbiamo preoccuparci beh no su una notizia del genere ancora no siamo attenti ma è partito così anche il covid professore ma io credo che loro sappiano ormai cos'è il covid sono tre anni che stiamo lottando contro sta cosa no non credo che sia questa magari è un altro tipo di virus respiratorio ma insomma magari anche normale loro dicono di origine sconosciuta l'ho letta anch'io l'Ansa si ufficialmente non per covid non per covid ma una malattia di tipo respiratorio di origine sconosciuta e hanno fatto cinque giorni di lockdown per capirci di più vabbè insomma speriamo che se c'è qualcosa che che ci possa impensierire non arrivi da noi insomma però adesso è inutile preoccuparsi era come preoccuparsi per il covid prima ancora che arrivasse la coppia di cinesi a Roma se vi ricordate no esatto però dovevamo stare attenti dovevamo monitorare perché il covid lo avevamo già in casa ma non ce ne eravamo accorti professore si parla ormai sempre meno di vaccini e perché e perché no bisognerebbe invece comunque continuare nella campagna vaccinale per quanto riguarda l'informazione esatto professore c'è una sponsorizzazione diversa perché poi solamente gli scienziati insomma voi siete rimasti giustamente a continuare a raccontare di quanto sia importante la vaccinazione però prima vedevamo pubblicità ovunque cosa che adesso non c'è più in politica si parlava di vaccini e adesso nessun politico parla più di vaccini tra di noi parlavamo sempre di vaccini hai fatto la terza dose hai fatto la quarta dose c'era anche il green pass di mezzo quindi anche questioni di non poter entrare in certi locali burocratiche se così vogliamo chiamarle ad oggi non si parla tra noi comuni chiamiamoci così di una quarta dose ad esempio che poi sarebbe una dose di richiamo professore perché forse chiamarla anche quarta dose è sbagliato diciamoci guardi siamo tutti comuni cittadini perché ci vacciniamo tutti per cui io non so perché non se ne parli guardate è uscito un bel lavoro sull'anset infection disease credo dove hanno dimostrato che tre dosi di vaccino poi ti prendi il covid perché sappiamo che il contagio non è evitato hai una immunogenicità ibrida quindi qualcosa che per almeno un anno ti protegge quindi il vaccino vedete funziona quindi chi deve fare la quarta dose le persone anziane le persone fragili ma devono farla per potersi proteggere guardate ci sono anche addirittura studi su vaccini mucosali vaccini nasali spray nasali di cui ancora non ce n'è molta non se ne parla molto ma è quello che a noi serve per evitare il contagio cioè avevamo il vaccino classico che si fa intramuscolo ci evita i sintomi gravi della malattia e questo l'abbiamo ormai visto stabilito e ci siamo vaccinati per questo poi però dobbiamo togliere di mezzo anche il contagio altrimenti questo virus circola sempre allora per togliere di mezzo anche il contagio ci sono questi spray nasali che sono sotto studio sono addirittura in fase 2 di sperimentazione sono abbastanza promettenti professore spray nasale per chi ha difficoltà con l'ago ma non si sente nemmeno ecco diciamo la punturina no non si sente proprio neanche te ne accorgi veramente no lo spray nasale ci evita oltre a quello intramuscolo che evita i sintomi della malattia quello nasale evita proprio il contagio quindi abbiamo finito di preoccuparci totalmente non ci contagieremo neanche più questa è una bellissima notizia professore che ci regala leggevo anche di uno studio nuovo magari mi può dare sicuramente lei professore notizie su questo uno studio importante che racconta di come la vaccinazione e poi l'immunità arrivata attraverso un insomma aver contratto il covid protegga in maniera anche molto importante sì sì è quello che dicevo poc'anzi sull'anset infection disease è proprio quella abbiamo dei dati però sempre più precisi professore quindi questo è un altro un ulteriore passo in più della scienza rispetto a qualche mese fa loro hanno fatto una revisione di almeno 26 lavori credo che sia addirittura stato questo lavoro commissionato dall'OMS se non vado errato e i risultati sono veramente importanti noi lo sapevamo che l'immunizzazione ibrida era maggiore rispetto alla sola vaccinazione o al solo prendere il covid quindi le due cose unite stimolano il sistema anticorpale in misura molto 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 maggiore che non ognuno da solo però più o meno sapevamo 7, 8, 9 mesi non un anno dallo studio si rileva almeno un anno uno è protetto quindi vedete anche prendendo il covid chi ha preso il covid in estate omicron con sintomi leggeri ah ma io mi sono vaccinato e poi ho preso il covid beh fortunato perché i sintomi sono leggeri hai preso il vaccino ma per un anno sei a posto per un anno professore le porto l'esempio mio ad esempio io ho fatto la terza dose a gennaio dello scorso anno e ho preso il covid in agosto quindi per il prossimo agosto lei sta bene e questa è questa però c'è il rischio ovviamente di riprenderlo ah sì certo ma magari è chiaro però insomma i sintomi sono leggeri poi anche dal punto di vista delle varianti diciamo che stanno man mano andando sempre più a diventare inflebili sempre più deboli quindi i sintomi sono quelli di un leggero raffreddore di un mal di testa giusto professore? assolutamente esatto quello che state dicendo è veramente perfetto siete bravissimi potete farli voi il mio mestiere non dire che mi invitate perché siete bravissimi tutti e due quindi no è vero è così Ortus per esempio è questo un semplice veramente raffreddore un mal di gola questi sono i sintomi che hanno in Inghilterra se posso permettermi professore credo che sia già arrivata in Italia anche è una sintomatologia o comunque una positività che ha anche una durata ridotta rispetto ad un omicron uno due tre sì è vero dura molto di meno dura sì un tre quattro massimo cinque giorni massimo negativizza è vero è vero tra l'altro professore io ricordo mi scusi se la interrompo quando andavo a scuola insomma no che avevo l'influenza io stavo a casa una settimana esatto anche due settimane ma parliamone professore l'influenza ad oggi è più forte del covid raccontano tutti la stessa favoletta professore tra virgolette favoletta ho preso l'australiana è peggio del covid ma è la verità io ho detto a tutti quanti vaccinatevi contro l'influenza vedete che vi arriva la febbre a 39 però con l'influenza non ci siamo chiusi in lockdown non l'avremo mai fatto e non lo faremo mai no è quello a cui volevo arrivare ha ragionissima e dovremmo farlo non faremo mai più lockdown per covid almeno che noi oggi stiamo discutendo parlando e sta venendo fuori una variante diversa dalla famiglia omica è tutta un'altra cosa che è terribile beh allora rimescoliamo le carte e ricominciamo a a darle però insomma per ora no ma nella maniera più assoluta non dovremmo credo io penso un richiamo ancora forse il prossimo anno magari con il vaccino spray se questo vaccino viene fatto eccetera uno per stare un po' così tranquillo se lo può anche fare magari per un periodo fino a che veramente non diventa talmente così debole da essere proprio un nulla e poi non ce lo ricorderemo più perché tanto sarà un nostro compagno di viaggio come come stanti coronavirus umani che ci danno raffreddore che ci danno un po' di mal di gola ogni tanto testate perché non ha stagionalità eh attenzione il coronavirus non è come l'influenza però vedi professore abbiamo adesso una conoscenza importante insomma sappiamo come comportarci delle regole basilari che raccontava Francesca prima ad esempio del suo ingresso in questa in questa trasmissione sappiamo quando come dove indossare la mascherina sappiamo come come proteggerci professore da un eventuale contagio no? è vero ci è rimasta questa come dire questa nostra politica di agire in questo modo cioè mettere la mascherina in metropolitana io ancora lo faccio beh sì anche noi professore è sacrosanto professore perché comunque cioè sono dei luoghi l'aereo comunque ha un sistema di ricambio d'aria diverso da quello che può essere la metropolitana e la vicinanza comunque delle persone che stanno in metropolitana è ovviamente differente rispetto all'aereo treno aereo a me professore non convinco guardate io ho sempre detto ma questa ormai è una buona pratica igienica totale igienica totale della mascherina ma uno sta in aereo se la mette in treno se la mette in metro se la mette quando scende la toglie e basta finito lo fanno i giapponesi da anni professore io ho visto ad esempio allo stadio persone indossare cioè non 60.000 persone all'aperto se allo stadio la mascherina chirurgica no no è un errore grandissimo cioè no cioè che dire la mascherina chirurgica protegge chi mi sta vicino esatto quindi ha protetto gli altri 60.000 ma ma insomma a me non mi ha protetto ecco se vogliamo metterla ma guardate io ecco ce l'ho qua sempre qui quando esco la metto in tasca e se ho occasioni di addensamento di professore lei ha ragione è un gesto molto semplice ce l'abbiamo nella giacca vede è un gesto semplicissimo io purtroppo non ho tasche quindi però insomma è un gesto semplicissimo professore ma sì cosa ci vuole io cosa è da ieri mi sembra ho preso l'altro ieri da metro per andare in centro e avevo un appuntamento poi ho messo la mascherina poi l'ho tolta quando sono arrivato l'ho rimessa quando sono ripreso sono delle banalità no? ma che il covid ci ha lasciato a molti io sapete cosa ho visto a molte persone anziane che mettono la mascherina anche in strada anche all'aperto pensate dove siamo arrivati come come dire come politica igienica personale mettere la mascherina anche in strada perché la persona anziana ha paura di prendere l'influenza ha paura di prendere il covid anche perché dopo tutto quello che abbiamo detto abbiamo fatto capire alle persone che anche l'influenza si evita con la mascherina è vero è vero ma ci sono i numeri poi che ce lo raccontano anche la nostra esperienza esattamente mi fa togliere una curiosità anche per fare chiarezza sulla burocrazia che è entrata nel covid in Italia ovviamente la burocrazia entra ovunque è capitato a me in un luogo chiuso di indossare la mascherina mi incontro una persona che mi ha chiesto perché porti la mascherina hai il covid io ho fatto tutti gli scongiuri ho detto no, non ho il covid indosso la mascherina perché sono in un luogo chiuso non mi sento protetto in questo momento e quindi indosso la mascherina poi magari io sarò esagerato insomma ognuno la pensa come vuole però professore questo faccia capire e fa capire ed è indicativo di come molte persone che sono positive al covid vanno in giro con la mascherina la legge lo consente professore sì dopo cinque giorni credo che si possa uscire io ho sempre detto beh sì diciamo che la negativizzazione arriva intorno al quinto giorno però se uno deve proprio uscire è obbligatoria obbligatoria la mascherina la mascherina FFP2 dopodiché però sconsigliata su un posto di lavoro professore perché è ovvio che una persona che si trova nove ore su un posto di lavoro ci sarà un secondo in cui si toglie la mascherina quindi in quel caso è indicato è consigliato è anche coscienza civile non andare è chiaro che non attacca al covid in quel secondo che toglie la mascherina perché ci vuole un tot di tempo però non lo so non lo so anche il caffè al bar con i colleghi ti togli la mascherina per berlo e se sei a quella distanza giusta le goccionine di flu ti prendono quindi non è detto però diciamo che non puoi evitare tutto dobbiamo campare dobbiamo vivere quindi diciamo che grazie al cielo questo virus ci ha portato a un'endemizzazione perché anche lui si è abituato a noi noi lo abbiamo stressato con le vaccinazioni con le persone che lo hanno già preso e quindi insomma la reinfezione c'è ma non è così diffusa insomma c'è la percentuale di persone che si possono reinfettare ma non è il 100% è ovvio è la minoranza quindi diciamo che come dire questo virus in qualche modo lo abbiamo stressato e ci si si sta affievolendo si sta indebolendo in tutte le sue sfaccettature e poi anche aveva un'altra cosa che nessuno l'ha mai detto ma un virus aveva muta muta sempre no? e si tiene la mutazione che a lui gli fa gioco per fuggire al nostro sistema esatto ma guardate che non può mutare all'infinito poi farà delle mutazioni che sono deleterie e quindi non gli conviene per esempio fare delle mutazioni che possono come dire farlo fuggire al nostro sistema immunitario ma per lui sono deleterie non le fa quindi ecco che non sfugge al sistema immunitario così facilmente come tanti dicono è arrivata la variante Kraken prima Cerberus poi Kraken adesso Oclus ma insomma ragazzi o quella che arriva dopo è sempre più contagiosa e più immuno evasiva dell'altra più cioè è sempre più contagiosa e più sfugge al sistema immunitario rispetto alla precedente guardate sono tutte uguali vengono tutte dalla stessa famiglia tutte quante sfuggono più o meno allo stesso modo tutte quante contagiano professore poi magari noi ci risentiremo perché ci sono suoi colleghi che dichiarano alla stampa che tra 15 giorni ci saranno fiammate su fiammate contagi contagi no ci saranno beh un aumento dei contagi aspettiamolo quando tornano i cinesi a casa per carità un aumento dei contagi ma guardate se vi ricordate bene c'era pure chi diceva che avremmo avuto a Natale 100.000 contagi di covid al giorno c'era pure chi diceva che a Natale eravamo tutti a letto con l'influenza insomma non mi sembra sia andata così professor Ciccozzi grazie mille di essere stato qui con noi professor Ciccozzi epidemiologo del campus biomedico grazie mille professore sempre un grandissimo piacere ci torni a trovare presto professore noi andiamo ci fermiamo un attimo perché diamo la linea all'informazione del Cusano Media Group torniamo subito dopo quindi mi raccomando rimanete lì